Salve a tutti ragazzi e bentornati qui su... Quei due sul server 2 Oh, allora abbiamo una nuova avventura, una nuova avventura Siamo appena... siamo appena tornati da una missione in solitaria Qui abbiamo il nostro libro con le... con le istruzioni E andiamo a leggerle Dalla padella volante alla braccia subacquea Ma si è accorto che siamo sott'acqua appunto? Appunto, dalla padella volante alla braccia subacquea I virus hanno infettato anche il rapture Fate... fatte attenzione alle insidie di quei mostri informatici Quindi siamo sott'acqua e... E la cosa non mi piace nemmeno un po' perché se rompiamo un muro... Non rompere i vetri Non rompere i vetri Allora c'è una pressure plate qui C'è un polipo pure Ehm... vedi un po' se si può evitare? Sì che si può evitare Ah, c'è questo freccia Freccia... eh... te l'ho detto Oh, come togliere le frecce Ah, cazzo me la sono presa pure io Uovo di scheletro... torto No, dall'altra parte no Occhio Merda! Aspetta Ok Si imparano a mettere... C'è un polipo gigante da quella parte Ciao polipo C'è una leva Partita a scacchi Eh, che apposto Allora ragazzi, là c'è qualcosa di infido Partita a scacchi Allora, se apriamo la leva Esce l'acqua, credo Tu dici? Oh, spada di ferro finalmente Merda Merda Questa sarà tosta Ah, ah, provo a aprire la cosa Vedo che succede Poi la chiudo magari Madonna, madonna Qua praticamente ci sono alcune Io ho un po' di paura, veramente Merda Stiamo facendo... Merda Oh, cazzo! Cazzo! Bastardi Che merda Che merda Torna indietro Torna indietro Se no muori Ritiriamoci, ritiriamoci Torna... Torna indietro Torna indietro Merda Stanno uscendo in mille Ecco perché la... Ci hanno messo la spada di... Fermo, fermo, fermo Non ti metterà davanti alla porta Guarda quante ce ne stanno Guarda a destra Tira avversaglio? Arca troia Eh sì, per forza Ci stanno... Guarda, guarda qua Guarda, vieni un attimo Sei pieno di frecce Guarda Eh, lo so Mi hanno, mi hanno incaprettato Madonna, benedetta Sembra un puntaspilli Guarda, guarda di qua Vieni qua, vieni Ci stanno anche menando da soli Tra parentesi Ottimo Madonna Non c'è mai la dinamite quando serve Non abbiamo la possibilità di incendiare qualcosa, no? Senti, ma se noi corriamo attraverso la stanza No, non ce la possiamo fare Guarda quanti ne sono Sono troppi Li dobbiamo attirare Occhio Alla Dark Souls, insomma Li dobbiamo attirare nel... No, no Nel punto cieco E poi... E poi ammazzare Dai, solo così possiamo fare Ma non è che si rigenerano? Madonna Non puoi... Vieni via Togliti dalla po... Cioè, se hai eviti di menarmi Almeno tu Dai, dai Aia Ah, ma ci stava uno Ok, io devo mangiare Aspetta, aspetta Sto morendo Vabbè, ma di ce ne stanno Dammi un secondo Non li chiamare che sto morendo No, non li sto chiamando Stanno arrivando da soli Porca troia, ragazzi Guarda, l'unica cosa buona È che sono tutti scheletri Possiamo recuperare le frecce Credo che sia... Madonna C'è uno bardatissimo È il re degli scheletri, credo Merda, merda Che casino Però si stanno menando da soli Va benissimo Stanno morendo... Guarda, stanno morendo da soli Affacciati No, aspetta Affacciati adesso Affacciati, affacciati Sì, sì, stavo guardando Stavo guardando Stanno menando da soli Allie grazie Madonna, ma ce n'è uno Che c'ha addosso Questo mondo e quell'altro Ah, ci ha troppato le cose Ci ha troppato Ci stanno menando da soli Non so quanti scheletri Ci sono Ci siano Ma credo Un botto Stivali di maglia Ma sono buoni Gli stivali di maglia Non lo so Sicuramente sono meglio Delle maglie di stivale Aspetta, sei... Non ho Non ho parole Aspetta che gli faccio Un airshot A quello che Sta lì Tanto ormai hanno premuto L'impossibile Quindi Ok Bella Doppia Meno male che avevamo Tutte queste frecce Meno male che Grazie a questi scheletri Ne avremo altre tante Perché Comunque Non ti distrarre Raccogli tutto Nel caso non avessi Leva, leva, leva Ho un altro leva Sì, intanto Ce ne abbiamo due Adesso di leve Mister bolla Chi cazzo è quello là dentro? Dove? Là dentro Alla tua sinistra Ah il golem Ah cazzo Lo potevamo liberare Davvero? Il nostro amico Il golem Credo A meno che questo Sia rosso E Vieni golem Merda No, sono stato io Vieni golem Sei amico tu Sei amico nostro Dai golem No niente Non gliene frega un cazzo Però A non sapere le cose Basi di minecraft Sì infatti Ignoranti come le zappe Oh tantissime frecce Sì anch'io Allora questa è stata Una delle zone più Più critiche Carrello Ok Prendo il carrello Aspetta Allora saliamo insieme Vaffanculo Vieni Ok tre due Non so come Aspetta come si parte qua Devi premere avanti E non parte Aspetta che sta Purtro Dalla serie Non parte Devi premere Oh merda Merda Ok ci sei? No Oh Ok ci sono A manetta Siamo arrivati Siamo arrivati alla safe zone Ma non ti piacerà Perché? Perché non ti piacerà Te lo garantisco io Ahia Sono arrivato Ah ma adesso perché si è Prima era sospesa nel nulla Vabbè Io direi che Siamo riusciti a chiudere Questo quinto episodio Che in realtà È il sesto per noi Sì sì È il sesto per noi E mamma mia Questo è stato uno dei più tosti Sì sì Veramente tosto Ragazzi Grazie a chi ha progettato Questo meraviglioso Trappolone Oh ma c'è qualcosa Di segreto qua Dove dove? Qui Di segreto Vabbè no Ci andiamo nella prossima Dai ci andiamo nella prossima Tanta Sa Ci andiamo nella prossima Anche perché là dobbiamo andare Non è che è un segreto Ok Vi consigliamo di chiudere Il rifugio qui sotto Che significa? Benvenuti assassini Credo che questa cosa sia Assassin's Creed Alla prossima puntata allora Fateci sempre sapere Cosa ne pensate